carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi grande e la misericordia del signore grandi sono le sue promesse verso il suo popolo in tutta la scrittura fratelli noi troviamo un progetto di dio che vuole fare nuove tutte le cose già nell'antico testamento si parlava di cieli nuove terra nuova e si parla tutt'oggi ai nostri tempi di queste promesse del signore ribadite da gesù nel vangelo come troviamo nelle vangelo di oggi e troviamo nelle scritte degli apostoli in particolarmente di san paolo e di san pietro rivolgiamoci al signore innanzitutto lodando e glorificando il suo nome col salmista vogliamo dire o dio tu sei il mio dio all'aurora ti cerco di te assete l'anima mia a te anera la mia carne come terra deserta arida senza acqua così nel santuario ti ha contemplato guardando la tua potenza e la tua gloria poiché il tuo amore vale più della vita la grazia del signore dice la vecchia traduzione la tua grazia il signore vale più della mia vita le mie labbra canteranno la tua lode così ti benedirò per tutta la vita nel tuo nome alzerò le mie mani come saziato da cibi migliori con labbra gioiose te lo dirà la mia bocca quando nel mio oretto di te mi ricordo e penso a te nelle vere notturne a te che sei stato il mio aiuto esulto di gioia all'ombra delle tue ali ecco fratelli dio è grande nelle sue opere e il suo progetto nei nostri riguardi è un progetto molto ardito vedete quando un padre vuol bene al figlio e vuole che faccia carriera investe investe perché riesca così il signore ci ama perdutamente fino al punto che gesù da la sua vita si sacrifica si immola per portare tutti noi a realizzare questi progetti che il padre ha su di noi e su tutta l'umanità cieli nuovi terra nuova e la volontà di dio quella di portare tutti a salvezza a tutti offre la mano a tutti offre la grazia verrà un tempo di questo certo in cui il signor lo dice lo stesso nel vangelo si manifesterà allora vedrete il segno del figlio dell'uomo vedrete il segno e ai mistici suoi confidenti gesù più volte ha svelato il senso di quelle parole cioè che darà luce a tutti i cuori aprirà gli occhi di tutti perché si riveli la verità e perché tutti siano messi in grado di poter operare la propria scelta a favore del signore nel vangelo di oggi allora fratelli gesù ci dà un insegnamento attraverso una parabola vedete nei paesi e nel medio oriente ci sono delle pratiche alcune delle quali abbiamo conosciuto anche noi dalle nostre parti per esempio i nostri paesi c'erano le donne che si occupavano dei bambini e quando c'erano delle grosse necessità questi bambini venivano chiamati a pregare a intercedere perché la preghiera degli innocenti suona gradito al cuore del padre che nei cieli così anche quando c'era un matrimonio c'erano delle delle persone che accompagnavano il corteo matrimoniale e gesù si appella uno di questi consuetudini e parla di dieci vergini che con le lampade dovevano fare schiarare la strada lo sposo che andava a unirsi alla sua sposa in matrimonio e siccome tornava queste alcuni di questi si addormentarono ma quando poi arrivò la notizia che lo sposo era era sul punto di arrivare queste ragazze cercano di preparare le loro lampade che avevano lasciate accese e queste e l'olio si era consumato per cui alcune avevano provveduto una riserva di olio altre invece rimasto senza loro chiese dalle altre di fornire loro parte di quel che avevano ma queste si rifiutarono se che dovete andare a comprarsi dell'olio nel frattempo lo sposo arrivò e loro non poterlo partecipare al corteo e quando furono pronte la casa ormai era chiuda e non è poterlo partecipare alla festa così dice gesù il figlio dell'uomo tornerà sulla terra ma troverà le porte aperte troverà ancora la fede sulla terra domande che pure un altro passo del vangelo quando il figlio dell'uomo tornerà troverà ancora la fede sulla terra che gli uomini saranno aperti alla presenza di dio i cuori degli uomini sono in ricerca della gloria di dio vedete come la maggior parte l'umanità oggi fratelli è presa dalla brama della ricchezza del piacere del potere la grazia di dio non è tenuto in gran considerazione ecco la munizione allora che il signore fa a noi dicendo fatevi trovare pronti fatevi trovare pronti e di questo ritorno parla anche san paolo nella seconda lettura che ascoltiamo oggi quando lui parla dei defunti accenna a questa coscienza dell'imminente ritorno del signore lo stesso san paolo credeva imminente questo ritorno del signore tanto che dice che vuol dare delle istruzioni sui defunti e aggiunge che coloro che quando verrà il signore coloro che sono ancora vivi non avranno alcun vantaggio riguardo a quelli che sono morti san paolo ti ci dice appunto che lui si aspettava di essere ancora in vita al ritorno del signore che doveva essere doveva venire da lì a poco tempo ma non nell'arco di secolo di millenni e infatti lo dice non voglio fratelli lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti perché non sono tristi come gli altri che non hanno speranza se infatti crediamo che gesù è morto e risorto così anche il dio per mezzo di gesù radunerà con lui coloro che sono morti sulla parola del signore infatti vi diciamo questo noi che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del signore non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti ed è come si parla di ritorno del signore e la munizione dell'apostolo farsi trovare pronti e una munizione che il signore oggi fratelli sta rivolgendo a tutta la chiesa a tutta l'umanità perché il mondo sta andando alla deriva lo sappiamo si cerca di frenare di correggere ma tanti dicono è interessante a volte sentire delle donne che dicono il mondo non può andare avanti così qualcosa deve avvenire dall'alto dio deve fare qualcosa perché non c'è alternativa vedete fratelli oggi si usano delle sostanze per cambiare la natura della persona umana ma in maniera irreversibile quindi non si può chiedere a queste persone di convertirsi sì ci si può convertire a dio ma non si può rinnovare la propria natura oggi si stanno creando nuovi generi di uomini e di donne che non sono più quelli che sono all'interno della natura creata da dio una volta esistevano persone diverse ma che avevano la potenzialità anche di cambiare ma oggi si stanno creando nuovi stati modi di essere che non si può cambiare non si può tornare indietro in quanto il dna delle persone vengono cambiate e questo fratelli non è una fantasia di alcuni e la sostanza la realtà per cui abbiamo bisogno abbiamo bisogno che dall'alto il signore crei cieli nuovi e terra nuova perché l'uomo con la sua scienza avvolta non ben usata lavora più per la morte che per la vita signore gesù tu sei la sapienza ingarnata di dio tu sei la sapienza partecipi questa tua sapienza la tua vita tuo spirito a quando ti accolgono nella loro vita ti aprono il cuore ti fanno entrare nella loro esistenza accettate da parte nostra il dono del nostro peccato prenditi il mio peccato prenditi il peccato di noi tutti e facci creature nuove ti chiediamo la grazia di essere rigenerati rinnovati ricreati non secondo le forze della carne ma secondo il tuo santo spirito donna speranza tutta l'umanità affrettato è venuta porta pace e salvezza rinnova l'umanità intera e rinnova modo particolare la tua santa chiesa rende la pura santa immacolata senza macchina e ruga e fanno una luce per tutti i popoli della terra a te gloria signore e potenza per tutti i secoli di secoli amen vergine santissima che se continuamente in mezzo alla tua chiesa per stimolarla ad accogliere gesù a rimanere fedeli a gesù ottiene per tutti noi la grazia di aprire la vita di lasciarci rigenerare dalla potenza del suo santo spirito lui vuol fare di noi creatore nuove creatore sante a lui c'è la gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen se satana fratelli si deve fare in questo mondo sappiamo che la grazia di dio sta preparando cose ancora più potenti più grandi più sante più degni di essere accolte apriamo il cuore a gesù e attendiamolo con fiducia con fede e con grande fedeltà amen a